Il consigliere agropolese Agostino Abate è intervenuto su Cilento Channel in merito alle dichiarazioni del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca riguardanti l'apertura H24 dell'ospedale di Agropoli, annunciata la scorsa settimana in conferenza stampa. Il consigliere ha fatto una cronostoria sulle sorti del presidio ospedaliero agropolese, raccontando la mancata volontà del governatore, quale commissario della sanità campana, di farlo rientrare nella rete dell'emergenza. Le accuse fuori luogo di De Luca contro i cittadini di Agropoli, definiti imbecilli, possono essere rispedite al mittente e ai suoi sostenitori, ha dichiarato l'esponente di ABC in Consiglio Comunale. Abate parte dal 2015, dove con il decreto del Ministero della Sanità del 2 aprile numero 70 fu approvato un nuovo regolamento che definiva gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera. Il piano parlava chiaro, la rete ospedaliera è strutturabile in tre livelli a complessità crescente e la rete dell'emergenza in quattro livelli di operatività. Con riferimento alla rete dell'emergenza, l'ospedale di Agropoli, come presidio ospedaliero di area disagiata, poteva essere inserito nel primo livello di operatività della rete dell'emergenza, e cioè ospedale, sede di pronto soccorso. Il riferimento documentale si trova al punto 921 del regolamento stesso ed è così riassunto. Ospedale, sede di pronto soccorso, primo livello, omissis, può essere prevista la funzione di pronto soccorso come descritta in presidi ospedalieri di aree disagiate, zone montane, isole, anche con un numero di abitanti di riferimento inferiore a 80.000. A questo punto il via libera del Ministero, continua Abate, era un'occasione da cogliere al volo per far rientrare Agropoli nell'emergenza, quindi toccava al commissario regionale Vincenzo De Luca inserirlo nel nuovo piano ospedaliero. Dopo tre anni di attesa fu redatto il nuovo piano ospedaliero regionale e precisamente il DCA numero 8 dell'1 febbraio 2018, che definiva l'organizzazione della sanità campana, con tanto di indicazioni sulle funzionalità dei vari presidi ospedalieri. Ebbene, Agropoli fu considerato stabilimento. Infatti nel piano si legge Agropoli è previsto un ospedale con pronto soccorso e con 20 posti letto di medicina. Esso viene aggregato come stabilimento al DEA primo livello di Vallo della Lucania e si specifica. Questo modello funzionale permette una migliore distribuzione delle risorse. Questo modello, come già sopra specificato, prevede prevalentemente nel presidio principale la gestione dell'emergenza urgenza, nello stabilimento annesso, le attività di elezione o ciclo diurno. In conclusione, Agostino Abate dichiara con convinzione e prove ufficiali che il governatore De Luca ha girato la prescrizione del regolamento del Ministero, affermando a chiare ed inequivocabili lettere che nello stabilimento annesso, quale Agropoli, annesso a Vallo della Lucania, non ci può essere pronto soccorso, decretandone così la declassazione.